Hey, bentornati! A sto giro il cane mi ha fatto dormire tranquillo, sono pronto e frizzante, aspetta un attimo. Partiamo dal puntualizzare una piccola cosettina, frase sulla quale vi concedo il copyright, peraltro potete utilizzarla alla prima uscita con il tizio slash tizia conosciuta su Tinder per distruggere completamente il suo interesse nel giro di pochi istanti. Wow, sei ancora meglio che in foto! Ma partiamo dal puntualizzare una piccola cosettina. Ieri nei commenti, in larga parte interessanti, come al solito alcuni hanno fatto un discorso sulle righe del carne sintetica. No signore, i soldi per la ricerca si potrebbero utilizzare in un altro modo. Nope. Nope. I soldi sono sempre relativi, vedetela così, specie quando non vengono tutti dalla stessa borsa e non sono soldi pubblici. Prendete la costruzione del prototipo della macchina della carne. Incidentalmente anche il mio soprannome tra le signore che la startup della quale abbiamo parlato ieri considera di poter costruire spendendo 2 milioni e mezzo di dollari. Ora, le applicazioni per questa tecnologia sono varie. Dai diremi etici sul voler mangiare senza uccidere animali, a rendere più vivibile il pianeta, all'utilizzare applicazioni simili anche in medicina. Per composizione dei tessuti, evitime di ustioni, quella roba lì. Ma non è quello il punto. Il punto è che la campagna cerca di promuovere un prodotto da vendere. E che in questo caso è carne ottenuta senza sofferenza animale. Quante persone sono interessate a questa roba qui? Non lo sappiamo esattamente, ma sappiamo che circa 200 mila dollari sono stati raccolti sinora con la campagna. E 200 mila dollari sono tanti o sono pochi? Certo, magari quei soldi si sarebbero potuti utilizzare per altri tipi di ricerca. Ci sono sempre questioni più pressanti. Curare i bambini malati è, se vogliamo, più pressante che salvare la vita di un pollo. Per lo meno per la maggior parte delle persone. Curare il cancro, stessa cosa. Ma creare della carne cruelty free è più o meno importante, per dire, di una comodissima borsa per trasportare le fotocamere. O, non so, dello stipendio di giletti. Non chiedo a caso. Questa è la campagna su Kickstarter per una serie di borse innovative. Quando dico innovative intendo nel video ripresentazione, pieno di musichette ispirazionali sognanti, si dice che siano innovative. Bene. Hanno tirato su, per ora, 5 milioni di dollari. Sono due macchine della carne sintetica. Ma questi soldi andranno nelle tasche di chi ha invece deciso di investire in ricerca delle tasche degli zaini. E giletti? Il... fatto quotidiano. Ieri ha rilanciato un pezzo sul suo blog, nel quale si parla di nuovo del freschissimo argomento delle retribuzioni di uomini e donne della TV. Per farci sapere che Semperini, il conduttore del nuovo show politico, guadagnerebbe 150 mila euro l'anno. Lordi. Ma, nello stesso periodo, Enrico Mentana ne guadagnerebbe un milione di euro. Paragone della gabbia 300 mila e giletti, appunto, 500 mila. Ora. La gabbia è più importante del trovare una cura per il cancro? Il Tg di Mentana è più importante di una ricerca che ambisce a risolvere il problema della fama nel mondo? Forse no. Ma non c'entra, perché non è così che funziona. Stiamo comparando arance con aeroplani. Qualcuno investe su queste persone che a loro volta generano introiti per chi ha investito. La stessa cosa vale per le aziende che investono nel settore della carne sintetica o in quelle farmaceutiche. Lo faranno anche per vocazione, magari, perché eticamente è figo avere un impatto nel mondo nei campi di interesse di ognuno, sia questa l'alimentazione sostenibile o il curare le malattie, ma lo fanno anche come investimento. Non hanno intenzione di darvela gratis la carne sintetica, hanno intenzione di vendervela. E va bene così. Inoltre, era anche un motivo per farvi rosicare sullo stipendio di Paragone. Lo ammetto. E posso continuare, eh? Perché Forbes ha fatto uscire la lista delle 20 modelle più pagate del mondo nel 2016. Vi linko in descrizione dell'articolo. Non quello di Forbes, però, che pretende ricaricare delle pubblicità pesantissime ad ogni foto. Ed è una galleria di ventifoto un po' eccessivo. Al terzo posto, comunque, non ho idea di chi sia questa gente. Carly Kloss, 10 milioni di dollari all'anno, seguita in secondo posto da Adriana Lima, 10,5, e al top Giselle Bunshan, 30 milioni, 500 mila dollari all'anno. Altro che Super Meat, proprio. Altro che Super Meat. Parliamo delle altre cose importanti che accadono, tipo il nuovo iPhone. Per ogni lamentela, sul costo esorbitante del nuovo telefono, rivedere la parte nella quale ricordo che il valore del denaro è una cosa relativa. E se così non fosse, non pagheremmo un cocktail annaquato tra i 7 e i 10 euro, quando, con la stessa cifra, al supermercato, potete comprare vino, patatine, birra e svariate centinaia di caramelle gommose. Peraltro, lo sapete come si fanno le caramelle gommose? Questo gioco non finirà mai di divertire, come siete avvisati. Il nuovo iPhone 7, più veloce bla bla bla, nuovo tasto bla bla, il plus a doppia fotocamera, bla. Chi se ne frega. Parliamo delle cose importanti. Hanno tolto il jack delle cuffie. Quindi ora, o usi il bluetooth, o usi le loro cuffie personalizzate con l'attacco lightning, o usi la tatuola che ti regalano, quello squisitamente ingegnerizzato, per essere perso entro il primo quarto d'ora. Cioè, nonostante, sono contento che abbiano tolto il jack. Ma c'hai il cavo 3,5 mm importante e se volevi usare le cuffie wireless potevi già farlo. Sì, è vero, ma Apple ha sempre avuto, anche se ormai la sta largamente perdendo, la capacità di dare degli scossoni al mercato tecnologico, come nessun'altra compagnia è veramente mai stata in grado di fare. Se Apple decide che il jack è sorpassato, è probabilmente sorpassato o lo sarà presto, perché di fatto scatenerà un indotto pazzesco, che significa tantissime altre aziende inizieranno a fare cuffie wireless, cercando di migliorare prezzo, durata della batteria, design, e lo faranno perché ci sarà un'altissima richiesta ora di cuffie wireless, perché tanto di iPhone 7 ne venderanno milioni, come al solito. Ah, ovviamente Apple lo fa anche per vendervi le sue cuffiette, che sono come al solito fighissime, si connettono come apri la scatoletta, sanno automaticamente quando le stai indossando e quando le togli e si comportano di conseguenza, e costano 160 dollari. Ah, è sempre con la tecnologia quella che ti permette di perderle in pochi istanti, fantastico. Le comprerei? Nope, sono 160 dollari per degli auricolari, cazzo, giustificati eh, giustificati, sono pieni di roba dentro, come al solito curati nei minimi dettagli, c'è un microfono integrato, vuoi parlare consigli, design fantastico, di fatto poi è il costo medio di apparecchi di questo tipo per ora, anche quelle Samsung costano così. Però sono sicuro darò una spinta al mercato. Ah, e poi il nuovo Apple Watch, bello, bellissimo, ora il GPS integrato, che è una figata, ma sono un fanboy pebble e non sono molto interessato a girare con 400 euro sul polso e farlo vedere a tutti, lo so, non sarò mai un vero gangsta. La gente è molto arrabbiata con Apple comunque, ma anche con Sony, perché è uscita la nuova PlayStation 4, che non è la PlayStation 5, ma è la vecchia PlayStation 4, un po' più potente, che supporta gli schermi 4K, quelli a risoluzione incredibile, che non ha nessuno, perché costano moltissimo, e la gente è arrabbiata, e anche io lo sono, non tanto, però sono mediamente infastidito. Tra tutti voi, PC, Master Race, le console sono brutte, cacapupù e tutte quelle robe lì, io ho sempre fatto il bambino molto speciale, dicendo che invece io preferisco giocare su console, anche dopo una vita passata ad assemblarmi da solo i computer con le componenti di scarto che mi davano i parenti quando ero piccolo. La ragione? Il non dovermi preoccupare di aggiornare l'hardware delle console. Per me PlayStation significa comprare la console, attaccarla alla TV e non dovermi preoccupare di framerate, nuove schede grafiche, raffreddamento, yada yada yada. Semplicemente comprare, attaccare e rimanere con quella tecnologia svariati anni. Non mi interessa se i giochi su console sono un po' più brutti, se non girano a 360 fps no scope, e anzi apprezzo che su Overwatch la gente non abbia la chat per scrivere ha 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 noob gay ogni nanosecondo. Ma se le compagnie che producono le console iniziano a far uscire più versioni dello stesso hardware, che di fatto hanno capacità di calcolo differenti, anche se per ora le differenze sono minime, in futuro chissà. L'intera filosofia dietro all'acquisto di una console crolla. A quel punto mi compro un computer. Non sono contento di questo cambiamento. Ah, e la nuova PS Pro non permette di vedere i Blu-ray a 4K, quindi la gente è incazzata anche per quello. Ma...fotte sega dei Blu-ray sinceramente. A Rio sono iniziate le Paralimpiadi, ovvero le Olimpiadi per diversamente abili. Se aveste un po' di tempo vi consiglio di guardarle. Sono un ottimo modo per rendersi conto di quanto incredibili nella normalità riescano ad essere uomini e donne. E ho trovato particolarmente toccante la storia di Marieke Wervoort, già premiata con due ore olimpici che correrà i 100 e i 400 metri su quelle strane serie a rotelle super pro, che però a 37 anni avrebbe già firmato i documenti che autorizzano all'eutanasia, nel caso non fosse più in grado in futuro di intendere e di volere a causa della sua malattia. La donna è infatti belga, dove l'eutanasia è possibile dal 2014 ed è affetta da una malattia degenerativa progressiva, che prima o poi la porterà in stato vegetativo. E...wow! Ho trovato questa testimonianza particolarmente forte perché arriva da una donna sportiva, atletica e forte. Quindi il contrario di quello che è in genere il racconto che fanno delle persone che scelgono di terminare la propria vita a causa di gravi malattie, le altre persone che questa scelta non la condividono. Trovo pazzesco, per me è folle che siamo ancora così influenzati dalla società e dal giudizio degli altri in merito a come decidiamo di vivere le nostre vite, che non riusciamo nemmeno a sospendere questo sistema di giudizio e di attribuzione delle colpe nemmeno di fronte alla scelta di mettere un punto prima di essere obbligati a subire il dolore e l'umiliazione che caratterizzano il convivere con alcune di queste patologie in stadio avanzato. Personalmente, e parlo dopo aver vissuto alcune esperienze, non tirando fuori opinioni come scorregge, rispetto chiunque si dica pro vita e sia contro l'eutanasia che è ovviamente illegale in Italia, ma se passassero a legge oggi, domani starei firmando i documenti. Credo sia tutto un discorso relativo a cosa si pensa sia la vita, il suo scopo, se ce l'ha, e il conseguente modo nel quale si è convinti questa vita vada vissuta. Articolo in descrizione. In ultimo chiudiamo con la parentesi di Roma, che ormai l'argomento sta diventando noioso, o perlomeno è noioso parlarne perché rimane interessante, e il fatto è che ne parliamo sempre negli stessi termini e le risposte sono sempre Oh, ma parli solo del movimento? Yep, parlo del movimento perché il movimento è al centro dell'attenzione in questo momento. Abbiamo parlato di Marino prima della Raggi e giuro che nessuno, in quelle lunghissime settimane, mi è venuto a dire Oh, parli solo del PD? Inoltre, a me frega niente se il movimento risulta rafforzato o indebolito. Io tifo per tutti e per nessuno, sono come Varys in Game of Thrones, prima che si alleasse con il peggior personaggio della serie, ecco l'ho detto, l'ho detto, ma bisogna comprendere che Raggi, Grillo e Di Maio stanno goffamente mettendo delle pezze sull'indifendibile perché si è velocemente passati da non sapevamo niente delle indagini di un nostro assessore a sì, in effetti lo sapevamo, ma non conta niente ad ancora sono stato avvertito, ma non ho capito la gravità della situazione che mi è stata spiegata via email che è poi l'ultima difesa di Di Maio che... personalmente io non gli credo, secondo me sta mentendo ma altri potrebbero invece essere convinti che non stia mentendo il punto però è un altro il Movimento 5 Stelle sta cambiando e se ne può parlare ed era anche ovvio che sarebbe cambiato ha lasciato alle spalle tutti i discorsi del movimento del basso della rete che spacca la politica la piattaforma online dove si prendono decisioni comuni tutta quella roba lì per trasformarsi in un partito più classico, strutturato e questo partito strutturato o movimento con un leader forte Grillo e quello che sembra essere il futuro candidato premier Di Maio ha tutta una struttura di potere fatta di nomine, sottonomine e conflitti interni quindi è inutile parlare di poteri forti perché il problema è all'interno e non è il movimento è la natura umana e poi raga è normale che la gente si scazzi un po' specie quando hai in partito per anni lezioni dal cavallo bianco sventolando la bandiera dell'onestà e poi quando sei nella merda tu della colpa ai poteri forti sperando che abbastanza persone se la bevano guardate di fatto è come Renzi che parte facendo la campagna elettorale sulla rottamazione a casa i vecchi politici viva i giovani, viva il nuovo e poi lentamente si tramuta in qualcos'altro di già visto ovvero un leader politico forte che porta avanti delle riforme convinto che siano giuste ma semplicemente in virtù del fatto che sono le sue riforme e lui a farle più o meno come sono stati convinti anche tutti gli altri sui predecessori e fa tutto questo mediando tra le forze politiche che un tempo diceva di voler rotamare perché? perché la rotamazione ormai è passata è politica funziona così e questo è anche tutto quello che avevo da dirvi per oggi grazie per aver guardato sono appena inciampato su un filo qui sotto è un casino quindi voi non lo sapete vedete ma poi un casino, uno studio e funziona così grazie mille Lorenzo che ci manda questa foto e il nostro alfiere per oggi ci scrive da Torino 21 anni universitario so un sacco di cose sembrava la presentazione di un profilo Tinder di qualche tipo però non facciamola diventare questa roba qui a meno che non facciamola diventare questa roba qui fate i bravi domani è venerdì non vedo l'ora avevo dimenticato quanto lunga può risultare una settimana bellissimo ma anche weekend